Grazie agli emendamenti fortemente voluti dalla Lega, anziché 90 saranno 166 comuni interessati dall'intervento per contrastare il declino demografico nelle zone interne. Questa legge approvata in Consiglio regionale persegue la finalità attraverso la quale si vuole restituire una nuova vita ai bellissimi borghi della nostra regione che sono interessati dallo spopolamento. Così il consigliere regionale della Lega Vincenzo Dincecco che spiega che sarà riconosciuto per un triennio un contributo di 2.500 euro per nucleo familiare che trasferirà la propria residenza entro 90 giorni dall'accoglimento della domanda in un comune di montagna della regione Abruzzo e che la mantengano per almeno cinque anni, pena restituzione delle somme percepite. Una legge proposta dall'intera maggioranza, voglio ricordare che il primo firmatario è stato il presidente della regione, è una legge a cui abbiamo lavorato, ha anche contribuito con emendamenti migliorativi rispetto alla stesura iniziale. È una legge che si propone di dare uno stimolo a quelle famiglie che magari immaginano di tornare nei comuni montane abruzzesi a vivere la loro vita o che in qualche modo possa scongiurare la possibilità del pericolo che invece vadano via dai paesi montani. Con un paio di strumenti che è l'assegno di natalità per i nuovi nati e il contributo al trasferire la propria residenza in questi comuni che sono individuati rispetto a delle specifiche accordi con l'Unione Nazionale dei Comuni Montani, che sono 166 comuni sotto i 3.000 abitanti e che hanno anche storicamente negli ultimi cinque anni una perdita, un calo demografico abbastanza elevato. Il centro-sinistra sostiene che questa legge non aiuta i centri montani del nostro interno? Il centro-sinistra che comunque ha votato la norma, poi come spesso accade in aula o sulla stampa fa delle critiche e poi però vota le norme, quasi sempre vota le norme che noi proponiamo. È evidente che non è la panacea di tutti i mali, non è con una semplice legge, con un contributo solo, un contributo economico, seppur di un certo peso che si può scongiurare un pericolo o comunque un processo che è in atto da anni, ma certamente è un segnale, un segnale che insieme a tanti altri segnali che stiamo cercando di dare in questi due anni e mezzo di governo, devono spingere o possono spingere anche a livello culturale le persone a immaginare che vivere in un centro montano della regione Abruzzo sia comunque qualcosa di positivo. Non è solo un aspetto economico, bisogna guardare al complesso, certamente bisogna migliorare la viabilità e lo stiamo facendo, bisogna interconnettere l'Abruzzo ad altri aspetti, quindi anche turistici e culturali, lo stiamo facendo, la regione Abruzzo ha vissuto negli ultimi due anni, nonostante la pandemia e dei numeri importanti sul turismo, tutte queste cose insieme possono e devono dare dei contributi affinché le persone decidano di spostarsi, di tornare a casa magari o comunque di rimanere in quella che è la loro casa e nel loro comune montano.